Alex Belli è finito al centro delle polemiche social dopo una battuta infelice e di pessimo gusto fatta sul conto di Manuel. Intanto però, in queste ultime ore c'è stato un nuovo episodio che ha scatenato l'indignazione social contro Alex Belli. L'attore si trovava in giardino con Manuel e Aldo Montano. Ad un certo punto è partito un pezzo di ultimo. Uno dei cantanti preferiti di Bortuzzo e il ragazzo non ha potuto fare a meno di cantarlo a squarciagola. Immediata la reazione di Alex che ha abbracciato Manuel, mettendogli una mano sulle spalle in segno di affetto. Tale gesto ha scatenato l'indignazione del popolo social e in tantissimi hanno puntato il dito contro Belli. Dato che ha avuto il coraggio di abbracciare Manuel, ma non ha avuto il coraggio di dirgli della battuta infelice fatta. Che schifo Alex, vergognati. Hanno sbottato i fan nel momento in cui hanno visto il momento dell'abbraccio al GFB.